finalmente sono uscita con un altro sì un uomo normale finalmente nome piero bello normale simpatico normale intelligente nella norma una noia portale siamo andati a cena al ristorante vegetariano che già voglio dire no dico quale passione potrà mai scoppiare davanti a un centrifugato di bietola e a una montagna di finocchi secondo me nessuna a me rosicchiare una carota cruda davanti a un uomo che ho appena conosciuto mi mette una tristezza infinita comunque questo mi dice sai io non bevo no non bevo non fumo non mangio carne non vado neanche in discoteca no 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 odio la musica italiana ma anche anche quella straniera odio la musica in generale e non mi piace andare al cinema anche il teatro no 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 il teatro lo detesto ecco ok bene allora ti aspetto al parcheggio mi accompagni tu a caso chiamo un taxi ma non ho neanche fatto in tempo a commentare che lui mi ha incalzato subito dicendomi io io potrei essere l'uomo della tua vita sì l'uomo della mia vita sì se la mia vita durasse 15 minuti sì l'insopportabile poi l'insopportabile per ravvivare un pochino la serata ascolta le conversazioni degli altri tavoli io ma preciso preciso puntuale preciso e commenta anche sì da giudizi tra i considerazioni una coppia di lato al nostro tavolo mangia il silenzio lui la fissa ma la fissa per un po' e poi borbotta rumorosamente come si fa ma guarda sti due ma dai ma dai ma che tristezza è mezz'ora che sono al tavolo non hanno niente da dirsi no certo certo invece noi abbiamo una tre cani di argomenti io l'altro giorno in coda all'autogrill pensavo perché non ci danno una tessera alla nascita una tessera a punti sì sì una tessera con i bollini ogni storia decisamente negativa ogni storia andata male ogni storia che proprio non sopporti bollini bollini in quantità assurda e quando completi la scheda l'uomo dei tuoi sogni un super mega gnocco fighissimo male ogni storia che davvero non sopporti bollini in quantità assurda e quando non sopporti bollini in quantità assurda e questo non sopporti bollini in quantità assurda e